Forse adesso ci siamo davvero. Dopo anni di chiacchiere e di momenti nei quali sembrava cosa fatta e poi come un coitus interruptus tutto si fermava sul più bello, la zona logistica semplificata potrebbe finalmente diventare realtà e dare davvero ossigeno a un territorio le cui prospettive al momento appaiono più che buie. Sulla gazzetta ufficiale è stato infatti pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso che contiene nello specifico il regolamento di istituzione di zone logistiche semplificate ovvero lo strumento che per gli addetti ai lavori rappresentava l'ultimo anello della catena prima della definizione reale della questione. Il provvedimento che entrerà in vigore la prossima settimana, per la precisione il 17 aprile, contiene le norme per l'istituzione e gestione delle ZLS, le semplificazioni per le imprese in esse insediate e per l'insediamento di nuove imprese. Le zone logistiche speciali vengono definite strumenti per creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, ossia che includano almeno un'area portuale compresa nella rete Tenti, di cui il porto di Civitavecchia fa parte dall'era di Maio. Può essere istituita una sola ZLS all'interno di una regione ed essa sarà composta oltre che dai porti, dalle aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, dalle piattaforme logistiche e dagli interporti. Sulla base del DPCM, per richiedere l'istituzione della zona logistica semplificata, il Presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmette la proposta al Ministro competente. A quel punto parte l'istruttoria che porta alla definitiva istituzione della ZLS, che avrà una durata non inferiore a sette anni e potrà essere rinnovata per altri sette anni sulla base dei risultati ottenuti. Il conseguimento dei risultati sarà verificato attraverso un monitoraggio della Presidenza del Consiglio. L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferirà la stessa il carattere di demanialità, né inciderà sulla destinazione d'uso dei terreni che ne fanno parte come disciplinata dagli strumenti urbanistici. Per le nuove imprese che si insediano in una zona logistica semplificata e per quelle già esistenti, il DPCM prevede numerose agevolazioni. Tra queste quella che l'autorizzazione unica, ove necessario, può costituire variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Un altro aspetto importante è rappresentato dal fatto che nelle ZLS possono essere istituite zone franche doganali, ovvero spazi nei quali viene meno il pagamento dei diritti dovuti all'Agenzia delle Dogane. E questa sarebbe davvero la carta vincente per la zona logistica semplificata di Civitavecchia, qualora, da chiacchiera quale è stata finora, diventasse finalmente realtà.